Presidente Santoro del Casalbordino, oggi le voglio fare una domanda un po' particolare o scomoda. Secondo lei è il Casalbordino che ha mancato di finalizzazione o è stato bravo il Pontevomano a mantenere poi il risultato? Allora, il Casalbordino sicuramente ha avuto le sue pecche. Il Pontevomano non userei il termine bravo, è stato furbo, che è diverso dall'essere bravi. E' ovvio che io ho un pochino da recriminare, anzi tanto ce l'ho perché quando una squadra va a giocare una partita di calcio e dimentica che quello è un gioco e quindi pensa solo al risultato, fa in una stessa azione 4-5 falli brutti, in maniera sistematica, si appenda la maglia, non ti fa giocare a calcio. E ragazzi, va bene che è l'eccellenza, va bene che è un campionato importante, però non dimentichiamoci che questo è un gioco. Quindi bisognerebbe poter giocare a calcio e non si può penalizzare e non tutelare le formazioni giovani che tentano di giocare sempre e comunque senza fare falli e cattiveri. Non è giusto. Mister Aureli del Pontevomano, allenatore in seconda di mister Cifaldi. La prima vittoria di stagione, nulla da dire. Lascio la parola a te. E' una vittoria che aspettiamo da tante, importante, che ci dà morale. Abbiamo raccolto oggi quello che abbiamo seminato in queste settimane dove i risultati non arrivavano, abbiamo continuato a lavorare bene, con voglia, con determinazione, i ragazzi si sono applicati e il risultato è quello di oggi. Abbiamo raccolto tre punti importanti, una partita combattuta, dura e forse meno bella di altre dove abbiamo fatto meglio, ma abbiamo raccolto meno. Quindi va bene così per oggi, raccogliamo questi tre punti e non abbiamo altro da chiedere per oggi. Poi da martedì torneremo a lavorare per cercare di risalire ancora di più la classifica.